Dati stabili in Sicilia, con comunque ancora un aumento di persone guarite, con un calo di ricoverati, è quanto emerge dal quadro riepilogativo della situazione nell'isola giornata alle 15 di oggi in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. E così dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 127.348, 3.775 in più rispetto a ieri. Di queste sono risultate positive 3.417 persone, 6 in più di 24 ore fa, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.522 soggetti, uno in meno rispetto a ieri, 1.627 le persone guarite, 7 in più e 268 quelle decedute, non c'è differenza tra ieri e oggi. Degli attuali 1.522 positivi, 118 pazienti sono ricoverati, ieri erano 11 in più, di cui 11 in terapia intensiva, mentre 1.404, ovvero sia 10 in più di ieri, sono le persone in isolamento domiciliare.